Francesco Lupoli, sindaco di Pulsano, con una propria ordinanza interviene in maniera radicale sul problema del fumo di sigarette. Secondo i dati del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, infatti, il fumo di tabacco risulta essere una delle principali cause di morte e di disabilità tra la popolazione, tali da giustificare l'iniziativa dei comuni, tese a scoraggiare tale iniziativa. Importanti ricerche scientifiche svolte dall'Istituto Nazionale dei Tumori hanno verificato che, in presenza di determinate condizioni ambientali, l'inquinamento generato dal fumo di sigarette sotto gli ombrelloni può superare quello che si registra in una zona ad elevato traffico di auto. Così il sindaco Lupoli, tra l'altro impegnato nel progetto Coloriamo il nostro impegno per la bandiera blu a Pulsano, ricorda che, parallelamente alle esigenze di tutela della salute, intenzione del Comune di Pulsano è contrastare la cattiva abitudine di gettare rifiuti prodotti da fumo sul suolo e nelle acque, le cicche e mozziconi che, oltre all'inquinamento ambientale, provocano il deturpamento diffuso del decoro urbano e naturale. È considerato che, anche in virtù della vocazione turistica di Pulsano legata alle sue indubbie bellezze naturali e paesaggistiche, il Comune stesso, inoltre, vuole contrastare i comportamenti degenerativi conseguenti al fumo di sigarette che ledono il diritto di ogni cittadino a godere del benessere offerto dal vivere e soggiornare in un habitat dotato di alto decoro igienico ed estetico dei luoghi. E quindi ordina che, a decorrere dal primo giugno, è fatto divieto a tutti i cittadini, residenti e non del Comune di Pulsano, del fumo sulle spiagge libere e oggetto di concessione ed esclusione di tutte le aree dedicate, di fumo nelle aree soggette ad una maggiore tutela naturalistica, anche al fine di prevenire il rischio di incendi. La violazione della presente ordinanza porterà una multa da 25 a 500 euro. Insomma, il sindaco di Pulsano e la sua amministrazione fanno sul serio. Vediamo in concreto come risponderà la popolazione a un invito soprattutto a riflettere sui propri comportamenti quotidiani.